affrontare questi cold case completamente dimenticati perché c'è capitato in un caso che addirittura Antonietta Lungo, una criminologa vedendo le nostre puntate adesso si stia attivando per cercare di riaprire il caso. Quindi nulla è perduto insomma e comunque sia ricordare le persone dimenticate è sempre un omaggio, è sempre giusto senza scadere nel gossip e nell'intrattenimento. Vi ricordiamo Crimini Dimenticati, Anello di Carta, trovate su Youtube tutte le puntate già pubblicate vi consiglio poi di attivare la campanella come dicono quelle brave per poter seguire tutti gli aggiornamenti di Crimini Dimenticati, Anello di Carta.